La garanzia di inalterabilità del contenuto e la valenza legale della trasmissione fanno della PEC lo strumento ideale per l'invio di informazioni o messaggi che generalmente avremo scambiato solamente a mezzo raccomandata o fax. Capirai quindi come la PEC sia perfetta per inviare informazioni o documenti importanti come contratti, fatture e preventivi, ma la PEC è utilissima anche per te, privato cittadino. La potrai utilizzare per scambiare messaggi con la pubblica amministrazione, per l'iscrizione a bandi e concorsi o per la comunicazione con la scuola. Ma i possibili scenari d'uso di una semplice casella non si esauriscono certo qui. Potrei farti molti altri esempi in cui questo strumento si rivela davvero insostituibile. Per esempio, sapevi che con la PEC è possibile disdire un contratto, partecipare a concorsi, convocare l'assemblea condominiale? Inoltre potrai utilizzarla come un vero e proprio domicilio digitale. A disposizione di pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici che vogliono comunicare con te. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!